E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati nel nostro appuntamento Cuore a Cuore Nella ricerca di una spiritualità per questo terzo millennio Insieme vogliamo condividere in un momento In un tempo che ci ricaviamo nella nostra giornata Sapete, siamo soliti anche vivere un momento proprio anche di preghiera Qualcuno me lo dice, ma Don, ma come si fa a pregare davanti alla televisione? È un po' complicato, non è così semplice Perché l'esperienza della preghiera è un'esperienza che ci sembra molto lontana Quella dello spettatore Per cui è necessario avere qualche piccolo accorgimento Per esempio a me aiuta tantissimo Quando mi trovo a svolgere momenti di preghiera davanti ai mezzi di comunicazione Avere un oggetto significativo Che può essere appunto una piccola statuetta, una candela accesa Lo stesso libro della Bibbia o un testo spirituale Avere qualche oggetto familiare Un crocifisso Nel quale poter rivolgere anche il nostro sguardo Non semplicemente allo schermo Ma anche appunto a qualcosa di sacro, tra virgolette Anche se poi sapete per noi cristiani La distinzione tra sacro e profano è sempre una distinzione molto difficile Da comprendere profondamente E poi ecco Dedicarsi del tempo Sapete, no? Purtroppo la vita di oggi è molto frenetica Per cui avere anche la possibilità di fare un momento di silenzio Prima della preghiera Dopo la preghiera Ecco, sto cercando di farlo Nei nostri incontri In cui il cuore parla al cuore Perché ci credo molto che sia possibile Anche se, come ci diciamo Non è semplice, non è facile Per questo ci prepariamo Oramai mancano pochi giorni Due settimane Alla celebrazione Della Pentecoste Ci prepariamo proprio A questa festa Invocando il dono dello Spirito Che è colui che prega Lo dice Gesù nel Vangelo Lo dice anche San Paolo In noi lo Spirito di Dio È la sorgente della preghiera Per cui, ecco, se Manca lo Spirito Santo Anche durante le trasmissioni di Don Davide Non è possibile pregare Per cui, ecco, invochiamolo Lo invochiamo con forza E per prepararci a questa grande festa Voi sapete che per noi cristiani La festa di Pentecoste È una festa un po' strana Non so se per tutti è chiaro Che cos'è questa stranezza Perché il giorno di Pasqua Voi ricordate L'abbiamo celebrato da poco tempo Nella liturgia vespertina Quindi se uno va a messa Il pomeriggio del giorno di Pasqua Si sente raccontare una storia Una storia che è un po' curiosa Ed è la storia appunto Della Pentecoste Del dono dello Spirito Santo Uno dice ma come? Già il giorno di Pasqua Arriva il dono dello Spirito Santo Ebbene sì Il Vangelo di Giovanni Racconta l'episodio della Pentecoste La sera stessa del giorno di Pasqua Mentre il racconto che abbiamo Nell'opera lucana Del Vangelo di Luca E soprattutto degli Atti degli Apostoli Colloca il dono dello Spirito Santo Invece 50 giorni dopo È chiaro che questo strumento Celebrativo liturgico Del porre i 50 giorni È per noi comunque Un comunicato simbolico Le feste non vengono fissate Esattamente con la cronologia Della vita di Gesù Perché altrimenti dal Natale Al giorno del Battesimo Di Gesù Alla festa del Battesimo Di Gesù E quindi da 0 a 30 anni Nel giro di 3 settimane È una cosa un po' impensabile Per cui ecco La liturgia ha questa scansione annuale Nella quale i tempi Le settimane e i giorni Hanno un significato anche simbolico Oltre che appunto storico E così accade per la Pentecoste Della quale appunto Non sappiamo quale dei due racconti Sia quello più aderente alla storia Perché se è successo 50 giorni dopo Pasqua Non può essere successo la sera di Pasqua O forse è successo in entrambi i casi Ecco non sappiamo di preciso Dare una risposta a livello di dettaglio cronachistico Di curiosità anche se vogliamo giornalistica Certamente ecco questa esperienza Della Pentecoste Quindi dei 50 giorni Come sapete Non è un'esperienza cristiana Ma è ebraica Cioè è già ebraica Oltre che cristiana Perché la Pentecoste è una festa È una delle feste tradizionali Anche della religione ebraica Così come anche la Pasqua Per cui ecco nell'opera lucana sicuramente si dà priorità Anche a questa coincidenza con il rito e le tradizioni ebraiche 50 giorni Cioè secondo la dicitura tipica della devozione ebraica 7 settimane 7 settimane sono 49 giorni Dopo 7 settimane alla Pasqua E chiaramente il numero 7 per la tradizione ebraica È un numero molto simbolico Che viene applicato Nell'occasione del giubileo Nell'occasione del sabato Della festa del riposo settimanale Eccetera Ecco queste 7 settimane dopo la festa di Pasqua Accade la festa di Pentecoste La festa appunto detta delle settimane E questa festa appunto è una tradizione che precede Precede la tradizione spirituale cristiana Ed è legata spiritualmente per la tradizione ebraica Al dono della Torah, della legge Il dono cioè delle tavole della legge Sul monte Sinai Il dono della Bibbia Della scrittura in quanto tale Della legge Intesa come alleanza Il dono dell'amore di Dio Del patto di misericordia del Signore Ecco allora che Capite il salto è breve Per arrivare al giorno di Pentecoste Dove noi appunto Celebriamo il dono dell'amore Il dono dello Spirito Santo Che è l'amore tra il Padre e il Figlio E che viene donato e riversato In un modo sovrabbondante Dice San Paolo nelle lettere romane Il capitolo 5 L'amore di Dio è stato riversato e fuso In modo sovrabbondante Nei nostri cuori E quindi Il giorno della Pentecoste È per noi questa grande festa Poi a livello liturgico Sapete appunto come ce ne siamo già detti La novena I nove giorni di preparazione alla Pentecoste Sono segnati da questo inno bellissimo Che è il Veni Creator Spiritus E che è appunto questa invocazione Dall'ascensione alla Pentecoste E poi La Santa Veglia Cioè come accade per la notte di Pasqua Anche la vigilia di Pentecoste Che quest'anno cade appunto il 30 maggio Viene proposta Una veglia di preghiera Una veglia nella quale Si possono fare letture, canti E si può fare il mattino Sapete che la veglia fino al mattino È una tradizione liturgica Per la notte di Pasqua Ma anche per la notte di Pentecoste Dopo ci sono delle persone che vorrebbero farlo Tutte le settimane No? Il sabato sera Arrivare all'alba Ecco Magari anche Con moderazione Però È una tradizione liturgica Che viene proprio dalla nostra devozione Eccoci allora In preparazione a questa festa Ho pensato di riprendere In mano Un testo che Papa Francesco Ci ha consegnato Proprio all'inizio del suo ministero Proprio appena diventato Papa Il nostro Jorge Mario Bergoglio Ha dato alle stampe Il 24 novembre Quindi nella solennità di Cristo Re Dell'anno 2013 Primo del suo pontificato Ha dato alla Chiesa universale un dono Oramai sono passati quasi sette anni Quindi voi direte Ma come? Sette è un numero biblico Questo dono si chiama Evangelii Gaudium E c'è in italiano La gioia del Vangelo E questa è stata forse La prima lettera Che Papa Francesco ha scritto Nel suo pontificato Con un lavoro interiore e personale Molto forte L'Humen Fidei E altri testi Che sono usciti Appunto con la firma di Papa Francesco Nei primi mesi del pontificato Erano testi che Già erano stati in parte elaborati Da Benedetto XVI E che Comunque risentivano un po' Della sua eredità Ricordate quel febbraio Sconvolgente In cui diede le dimissioni E' stato un momento anche molto forte Tra l'altro di recente Proprio ripreso Da un bellissimo Da una bellissima opera cinematografica Che vale la pena di essere guardata E La gioia del Vangelo Dice il Papa E' chiaro che questa è una È un'espressione che Comprendiamo bene Nella Esperienza Di questo lungo pontificato Che appunto In questi anni ci ha Ricordato Quanto è importante Tornare alla gioia Pensate Il frutto dello Spirito Santo Dice San Paolo Scrivendo ai Galati Dopo all'amore E' proprio la gioia Quindi E' chiaro che questa Esortazione apostolica Sull'annuncio del Vangelo Nel mondo attuale E' un testo che E' imbevuto Di Spirito Santo Perché parla della gioia appunto Dice nella sua introduzione Il Papa La gioia del Vangelo Riempie il cuore E la vita intera Di coloro che si incontrano Con Gesù Coloro che si lasciano salvare Da Lui Sono liberati dal peccato Dalla tristezza Dal vuoto interiore Dall'isolamento Con Gesù Cristo Sempre Nasce E rinasce La gioia In questa esortazione Desidero Parlare A tutti i fedeli cristiani Invitandoli A una nuova tappa Evangelizzatrice Dice il Papa Marcata Da questa gioia Indicare le vie Per il cammino Della Chiesa Dei prossimi anni Ecco Certamente È un testo Che in molte Chiese locali In molte diocesi È stato Approfondito Rielaborato Studiato Soprattutto per quanto riguarda La prima parte Quella parte In cui si parla Dei difetti Dei peccati Della vita Della vita Dei cristiani Le situazioni Di solito Brutte Sono quelle Che attirano Più l'attenzione E quindi La crisi E le tentazioni Degli operatori Pastorali Sono state Un oggetto Di grande Interesse Da parte Di molti Invece Io vorrei Dedicare Questo nostro Tempo Di preparazione Alla Pentecoste All'ultimo capitolo Di questa esortazione Che si chiama Proprio Evangelizzatori Con spirito Che cos'è L'evangelizzazione? Io vedo che Spesso mi tocca Parlarne Mi ritrovo A parlare Di questa evangelizzazione E pensate che Giovanni Paolo II Addirittura Ha coniato Una parola All'inizio Del suo pontificato Quindi nel 1979 Dicendo Il mondo Ha bisogno Di una nuova Evangelizzazione Evangelizzazione È un termine Che potrebbe sembrare Appunto Adatto Solo al passato Cioè Quando Gesù Ha iniziato Il suo Ministero pubblico Inizia Il Vangelo Appunto Cioè L'evangelizzazione Se volete La parola evangelizzazione In italiano È un po' brutta Perché Molto complessa Secondo me Sarebbe meglio Usare Vangelo No? E È molto più breve È chiaro che È una parola greca Anche quella Hanno la stessa radice E significano Più o meno La stessa cosa Cioè Vangelo Prima di significare Un libro Come noi siamo abituati A Utilizzare questo termine Indica Un'azione No? Il Vangelo Che cos'è? È l'annuncio Di Gesù Salvatore Di questo Messia Che Ha stupito E ha sconvolto Tanti E che dice Papa Porta la gioia Porta la libertà Porta la Manda via la tristezza A tutti coloro Che lo incontrano E quindi A tutti coloro Che credono In Gesù Perché credere In Gesù Vuol dire incontrarlo E questo Su questo Non c'è dubbio Che dobbiamo Soffermarci E capire meglio Che cos'è Questa gioia Del Vangelo Cosa significa L'incontro Con Cristo E perché Ancora oggi C'è bisogno Di una nuova Di un nuovo Vangelo Di un nuovo annuncio Diceva Papa Giovanni Paolo II San Giovanni Paolo II E qui Papa Francesco dice Una nuova tappa Nel Vangelo Bisogna fare una tappa C'è un punto Di riflessione Giustamente da Gesuita Papa Bergoglio Ci invita Ogni tanto Nell'itinerario A fare il punto Della strada A fare il punto Della situazione Sapete che Nella regola Di Sant'Ignazio Il punto Della strada Va fatto tutte le sere La sera È un momento Sacro Per i Gesuiti Perché bisogna Fare l'esame Di coscienza Pensate Più importante Della messa Più importante Anche della preghiera Della liturgia Delle ore L'esame di coscienza Per la regola Di Sant'Ignazio Per tutti i Gesuiti E quindi anche Per il Papa L'esame di coscienza È un momento Cardine Della giornata Nel quale Alla fine Della giornata Bisogna prendersi Un tempo Che a volte Appunto è molto Difficile Prendere Soprattutto per Resistere al sonno Che di solito Alla sera Siamo molto Stanchi Un tempo Per riuscire A riguardare La giornata E a rivedere Lasciar risuonare Che cosa Sta succedendo Dove stiamo andando Verso dove cammino Che cosa ho fatto oggi Come sarà domani Ecco Momento di passaggio Ebbene Giustamente Papa Bergoglio Ci dice È necessario Fare una tappa Del Vangelo Cioè Sostare Come un esame Di coscienza Non a caso Appunto Nella prima parte Delle Vangeli Gaudium Il Papa dice Appunto Le tentazioni Che lui vede Come pericoli Nella vita Della Chiesa E dell'annuncio Del Vangelo Oggi E quindi È un po' Un esame di coscienza Però ecco L'esame di coscienza Non è mai solo Un senso di colpa Di quello che abbiamo fatto È sempre anche Un rimandare Verso Non solo la speranza Di poter fare meglio Ma anche la consapevolezza Dell'amore di Dio Incondizionato Di questo amore Che accetta E accoglie Tutti noi Nell'esperienza Di quello che Ci è dato di fare Ecco allora Vogliamo Insieme pregare Perché Questo tempo Di preparazione Alla Pentecoste Ci aiuti A fare tutti 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 insieme Come il Papa Ci invita Una sosta Una tappa Nel cammino Dell'evangelizzazione E vorrei con voi Proprio concludere Con la preghiera Che il Papa stesso Ha composto In questa esortazione Apostolica Rivolta alla Vergine Maria Che in questo mese di maggio Ci accompagna Vergine Madre Maria Tu Tu Che mossa Dallo Spirito Hai accolto Il Verbo Della vita Nella profondità Della tua umile fede Totalmente Donata All'Eterno Aiuta Anche noi A dire Il nostro Sì Nell'urgenza Più Imperiosa Che mai Di far Risuonare La buona notizia Di Gesù Tu Hai portato La gioia A Giovanni Il Battista Ricolmata Della presenza Del Cristo Nel tuo grembo Tu Rimanesti Ferma Davanti Alla croce Con una fede Incrollabile E ricevesti La consolazione Della risurrezione Radunando I discepoli Nell'attesa Dello spirito Perché Nascesse La chiesa Evangelizzatrice Ora Ti preghiamo Ottieni a noi Un nuovo Ardore Di risorti Perché Possiamo portare A tutti Il Vangelo Della vita Che vince La morte Dacci Il coraggio Di cercare Strade nuove Perché A tutti Possa aggiungere Il dono Di questa Bellezza Che non si spegne Tu Vergine Dell'ascolto E della Contemplazione Madre Dell'amore Sposa Delle nozze Eterne Intercedi Per tutta La chiesa Della quale sei L'icona Purissima Amen Ecco vi invito proprio a trascorrere Queste settimane Che ci separano Dalla festa Di Pentecoste Meditando Questa preghiera Che avremo modo Anche di Riprendere Domenica La prossima settimana E pregare Per la chiesa Perché sia Per il mondo di oggi In questo contesto In questo tempo Così Complesso Fonte Di gioia Ave Maria Splendore Del mattino Puro è il tuo sguardo Ed umile Il tuo cuore Protegga il nostro popolo In cammino La tenerezza Del tuo vero amore Puro è il tuo sguardo Puro è il tuo sguardo Protegga il nostro popolo In cammino La tenerezza Del tuo vero amore Per la chiesa Per la chiesa Per la chiesa